Si sono confrontati sul tema dell'estensione temporale delle concessioni dei maniali marittime fino al 2033 i rappresentanti dell'Associazione Operatori Balneari della Cossa di Maratea che hanno incontrato il capogruppo di Forza Italia Piro. Oggetto della discussione è la delibera di giunta numero 155 del 2019 che proroga fino al 31-12-2020 la validità delle concessioni in essere. Lamentata dal presidente dell'Associazione Roberto Schettino la mancanza di certezze sulla questione che impedisce agli operatori la programmazione imprenditoriale. Al termine dell'incontro sollecitato dal sindaco di Maratea Stoppelli Piro si è schierato a difesa dei balneari ed ha assicurato che gli uffici regionali preposti forniranno risposte certe all'esito degli incontri nazionali dei prossimi giorni. Non farò mancare alle famiglie di tutti gli addetti del comparto ha concluso la vicinanza e la puntuale attenzione per la risoluzione della problematica che li riguarda.